Con la maestria di un vero genio dell'arte, Ancarani ci guida in un viaggio indimenticabile nel mondo affascinante dei trabacoli, simbolo intramontabile della storia marittima della città. Le opere di Ancarani, ammirate e custodite in collezioni pubbliche e private in varie parti d'Europa, trasudano storie di grandiosità e declino. L'artista cattura con abilità straordinaria l'essenza dei trabacoli di Cervia. Queste imbarcazioni che un tempo solcavano le onde per la pesca e il trasporto di materiali da costruzioni. Attraverso i dettagli meticolosi e una tavolozza di colori vivaci, Ancarani restituisce la maestosità e l'effimera bellezza di queste opere d'arte galleggianti, testimoni di un'epoca passata. La mostra trabaccolo, grandezza e decadenza, rappresenta una opportunità straordinaria per immergersi nell'arte di Ancarani e nella incantevole storia marittima di Cervia. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di ammirare queste opere che incitano alla riflessione sul legame intrinseco tra il passato e il presente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!